L'olio di oliva per me significa una parte importante della vita, di noi. Difficile da spiegare cosa significa per noi l'olio e l'olivo perché è una cosa che ce l'abbiamo da quando siamo nati. L'Iguria si trova a nord-ovest dell'Italia, già tanti, sono più di cent'anni che si coltiva le olive, ma il nostro olivetto si trova appunto nella Val Merula, la Stella Nello. La nostra azienda agricola è in una buona posizione perché è un'altitudine di non troppo e non troppo poco. La nostra azienda, noi con mia moglie coltiviamo circa 800 piante e il lavoro comunque è già impegnativo. Meno male che abbiamo i nostri genitori che ci danno una mano nel periodo di raccolta, però riusciamo a fare tutto da solo con compassione e fatica. La raccolta da noi avviene in un modo sempre tradizionale, mettendo delle reti di plastica che comunque riprendono il lavoro che facevano già i nostri vecchi, che invece della plastica usavano delle tende di stoffa e battevano con delle canne, con dei bastoni il frutto per farlo scendere. Sicuramente la raccolta è il momento che dà più soddisfazione, quello sì. Vedere, mettere le reti, vedere il frutto che scende, dà soddisfazione. Il mio olio secondo me è particolare perché noi raccogliamo le olive al pomeriggio e alla sera lo portiamo già a macinare, quindi le olive fanno un processo veloce e l'olio secondo me è migliore. Un buon olio si vede già, innanzitutto il profumo, e poi assaggiandolo deve lasciarti un bel gusto fruttato in bocca, è quello. Sicuramente il gusto è sempre una cosa molto soggettiva, sicuramente in Italia ci sono tanti oli diversi, secondo me questo qua è uno dei più buoni perché comunque è un buon olio. Allora Spida